Benvenuti ad un'altra trasmissione dell'Angolo del Libro di Reteoro. Quest'oggi parliamo di un libro particolare, è stato scritto dall'ambasciatore, l'ambasciatore che abbiamo qui nei nostri studi, si chiama Francesco Maria Spanò ed è ambasciatore dell'Accademia Nazionale del Peperoncino. Quindi una cosa proprio istituzionale. Istituzionale, un'Accademia che poi c'è anche diverse delegazioni, mi sembra. Noi siamo stati ad una festa qui a Roma organizzata dalla delegazione romana. C'è un sacco di stand, peperoncino a tutte le parti e così via. E allora siamo qui perché il dottor Spanò ha scritto un libro insieme ad Erminia Gettini, Tricarico e a Massimo Lopez, ha scritto un libro che state vedendo inquadrato in questo momento, Very Important, peperoncino. Crea dipendenza che fa bene alla salute. Allora, con mai l'idea di questo libro? Questo libro nasce per un amore verso questa pianta, questa spezia particolare. Non a caso sono ambasciatore perché sostanzialmente gli ambasciatori sono coloro i quali non solo sono consumatori e amanti del peperoncino, ma hanno anche un dovere, quello di diffondere la cultura e il consumo del peperoncino nel territorio e possibilmente in tutte le parti dove è possibile. Perché questo? Perché il peperoncino sostanzialmente rappresenta qualcosa di bello, di piacevole. Non a caso abbiamo scelto questa copertina che è un quadro fiammingo del 1680 di un autore fiammingo. Voi sapete che la pittura fiamminga è il periodo d'oro, siamo nel 600, è proprio la natura morta con questa grande saltazione degli ortaggi, dei fiori. Raramente in Italia viene conosciuta con la presenza anche del peperoncino. Invece aver scoperto, grazie a Lucia Antico che appunto vive in Olanda, è un nostro riferimento, ha fatto un bellissimo capitolo sulla pittura fiamminga. Un'altra delegazione estera. Un'altra delegazione estera, esattamente. Abbiamo scoperto che ci sono diversi quadri, dieci di quadri di natura morta della pittura fiamminga con la presenza del peperoncino. E questo è importante perché dimostra come il peperoncino non sia solo un fenomeno calabrese di consumo o di arricchimento del sapore, ma è anche arte. Arte che in Italia era soprattutto conosciuta con l'Arcimboldo che appunto ha rappresentato nelle sue bellissime quadri con questo personaggio di ortaggi anche il peperoncino. Ma che trovava un stacco enorme con i futuristi che ne hanno dato una importanza notevole, i Marinetti soprattutto. Mentre c'era una parte pochissimo conosciuta della pittura fiamminga. E questo libro dedica anche un capitolo a questa particolare arte figurativa che lo nobilita ancora di più e lo fa immaginare come qualcosa che era molto presente già in Europa. Lei parla della diffusione del peperoncino nel partito dalla Calabria. Io per esperienza personale, che mia moglie al 50% è del Salento. Ecco qui abbiamo un altro quadro col peperoncino. Ah vede, bello. Fiammingo sempre. E del Salento. Sì, certo. E quindi allora in quella zona è molto molto diffuso l'uso del peperoncino. A tavola con le cugine di mia moglie, loro tranquillamente hanno il peperoncino sul tavolo e lo prendono a morsi fra un piatto e l'altro. Mio suocero, che non ho conosciuto, però anche lui è ovviamente della zona di Lecce, anche lui mi dicono che mangiava sempre. Ed ecco perché crea dipendenza. Non solo in Calabria, almeno in Puglia per conoscenza diretta è molto diffuso. Allora le regioni dove c'è maggior consumo di peperoncino sono la Calabria, la Basilicata e l'Abruzzo. E poi a seguire la Puglia, un po' la Campania, ci sono alcune regioni invece dove il peperoncino è assolutamente sconosciuto. Sicuramente, al nord in margine, no? Soprattutto al nord, soprattutto nel centro Italia, perché c'è anche un motivo storico, perché la Chiesa non accettò il peperoncino. Il peperoncino, come sappiamo, arrivò con Cristoforo Colombo dalle Indie, che poi erano chiaramente l'America. E nella descrizione che viene fatta del peperoncino, quindi nel libro che viene accennato, c'è anche una descrizione a parte proprio di un sacerdote che aveva seguito Cristoforo Colombo che dava degli elementi di esaltazione, quasi diabolici, e di conseguenza la Chiesa l'ha un po', diciamo, quasi letteralmente messo al bando. E' anche un po' una parte del grande commercio che si sperava di ottenere dal viaggio delle Indie, che era un viaggio verso le spezie, perché allora dobbiamo considerare che il consumo delle spezie era molto importante. Invece, ecco, questo è un altro bellissimo quadro, vedete queste fantasie, queste siamo sempre nella seconda metà del Cinquecento, ebbe un grande successo invece come pianta medica. Veniva chiamato il pepe brasiliano e il pepe spagnolo, ed era diffuso negli orti botanici, quindi apparteneva alle grandi famiglie reali degli orti botanici di tutta Europa, o agli studiosi, che allora erano i monaci. E quindi c'è questo scambio di lettere e anche di piante, dove c'era questo giro di mandarsi le semenze e le piante, perché appunto era importante poter esporre nel proprio giardino una pianta particolare, in questo caso la pianta del pepe brasiliano. Quindi era qualcosa che rendeva orgoglioso, ma il vero consumo, quello che raccontava lei, che è la cosa più bella tutto sommato, il consumo quotidiano, è tipicamente meridionale e soprattutto delle regioni del sud Italia. Perché? Perché il pepe brasiliano... Anche qui c'è una storia. C'è una storia, perché si diffonde chiaramente, arriva nel sud Italia con gli spagnoli, non sappiamo che gli spagnoli governavano il regno delle sicilie, eccetera, però il peperoncino nasce soprattutto e è un successo, come lo conosciamo, tra i contadini, perché il peperoncino dà sapore alle verdure. Noi dobbiamo immaginare che la dieta dei contadini calabrese o medidionale è una dieta molto povera. Molto, certo. Molto povera, quindi di conseguenza poter arrivire... Come a nord della polenta, per esempio, per dire... Esattamente, quindi erano persone che mangiavano, la carne era rarissima, eccetera, e di conseguenza l'utilizzo del peperoncino dà sapore, aiuta, rende non solo piccante il sapore, che è già un piacere, ma c'è anche l'odore, no? Quindi questo l'ha sviluppato. E poi si è scoperto un'altra cosa molto importante, che il peperoncino conserva gli alimenti. Noi sappiamo che l'uomo ha stato sempre alla ricerca di qualcosa che possa conservare gli alimenti. Una volta il sale, no? Il sale è fondamentale. Il sale è fondamentale. Il sale è fondamentale. Cosa succede? E qui torniamo un po' alla Calabria. C'era lo stipendio dei soldati, dei legionari, no? Era importantissimo perché grazie al sale si può conservare. In Calabria, intorno al 600, era anche difficile nel 700 poter acquistare il sale. C'era anche un mercato nero, sostanzialmente. E di conseguenza si scopre che il peperoncino riesce a conservare gli alimenti. E qui cosa succede? Ecco, qui siamo con l'imprenditore Enrico Pirro, che ha tra l'altro sponsorizzato questo libro. Gerardo Sacco, che come sapete è il famoso giardiere. Se la legge è tanto, ci può far vedere. E poi c'è Elmigna, Elmigna, Tricarico, il professor Massimo Lopez. E il presidente dell'Accademia del Peperoncino, che si riconosce subito dalla maglietta, dalla camicia ricca di peperoncini. Dicevo, il peperoncino è un conservante perché riesce... Chiedo scusa, spalato su Spano. Queste sono foto girate in occasione della presentazione del libro, quando prima ho accennato che c'è stata questa grossa manifestazione. All'ottobre piccante, qualche settimana fa. Certo, questa grossa manifestazione dove c'erano peperoncini. Io ho visto migliaia di peperoncini, decine di gazebo. E qui era il momento in cui lei ha presentato il libro al pubblico. Qui abbiamo anche questa famosa fotografa che ha fatto queste bellissime rappresentazioni che ricordano un po' questi quadri di Caravaggio, un po' questi colori, questo rosso bellissimo. Questo non è un peperoncino, questo è il peperone di senise che è una caratteristica particolare della Lucania. Torno alla conservazione. Il peperoncino conserva gli alimenti. E quindi cosa succede? Che la famosa anduia, che è conosciuta ormai in tutto il mondo, è composta dal 70% di peperoncino fresco e macinato e il 30% di grasso di maiale. All'inizio era addirittura lo scarto del grasso di maiale. Questo consentiva ai poveri contadini di poter, nelle serate dove c'era questo minestrone, queste verdure per tutti, di poter inserire questa crema di induia e quindi si assaporava e si assorbiva anche un po' di proteine che erano molto rare allora. Quindi conservazione e poi chiaramente il grande successo sta negli insaccati. La soppressata è la regina degli insaccati, ma anche il capicollo, il lardo, il guanciale, da noi tutto viene conservato col peperoncino, tant'è che Miura, nella famosa statistica fatta all'inizio dell'Ottocento, chiaramente dichiara che i salumi calabresi sono i migliori perché appunto vengono conservati anche col peperoncino. E questo poi è stato il successo che oggi abbiamo del peperoncino e i prodotti calabresi sono diffusi in tutto il mondo. A chi si rivolge questo libro? A parte un libro bellissimo, ci tengo a dirlo perché È un libro molto bello, edito da Gangemi Stiamo vedendo tutta una serie di immagini Ecco, qui siamo a delle piante di peperoncino che vengono coltivate dalla NASA perché si è scoperto che il peperoncino è una di quelle piante che consente agli astronauti di poter avere qualcosa di fresco quando vanno in orbita E il peperoncino come sappiamo ha una quantità di vitamina C cinque volte superiore agli agrumi. Quindi tutte queste curiosità inducono al lettore a dire ma vediamo scopriamo un po' qualcosa del peperoncino Che rimane comunque sempre una cosa ancora per una parte dell'Italia o per i grandi amatori Non è qualcosa di massa come per esempio il caffè, il tè Questo è il simbolo dei medici in questo gioco Senta, com'è congegnato questo libro? Ho visto delle ricette, delle storie, c'è un po' di storie del peperoncino Esattamente Molte foto che riguardano anche l'attività dell'accademia e così via Diciamo che questo libro è nato con l'idea di poter raccontare in modo più possibile le tante sfaccettature del peperoncino Questa è Maria Grazia Cucinotta che indossa un gioiello Che è un gioiello a forma di peperoncino Esattamente, creato apposta per questo libro perché abbiamo voluto anche far sì che l'arte non si fermasse sotto il covid Perché sostanzialmente questo libro è stato scritto sotto il periodo del covid Ah, è l'opinione Autotempo Autotempo Quindi troviamo pittura, troviamo storia, troviamo medicina, moltissima medicina Ma raccontiamo anche storie, molte ricette C'è molta romanità perché ci sono molte ricette raccontate da Mimo Domenico che è in acrostico E abbiamo poi anche molte curiosità Per esempio c'è una bellissima poesia di Aldo Fabrizi, di D'Annunzio Lo spray al peperoncino Lo spray al peperoncino è quello che c'erano i poliziotti I poliziotti per bloccare i... Esattamente, che crea questo effetto Che evita appunto l'utilizzo delle armi da fuoco Le ricette, moltissime ricette, di cui anche molto romane E la cosa simpatica è che ci sono dei coriandoli Che noi abbiamo chiamato così perché raccontano delle piccole notizie Per esempio alcune squadre del campionato inglese Fanno mettere il peperoncino negli scarpini ai giocatori Perché questo gli consente di poter avere un maggior impatto col freddo Certo, se l'avessero usato forse la nazionale avrebbe giocato meglio Oppure viene utilizzato anche per i fotovolcai Per i pannelli Perché diciamo la presenza della capsicina Che è la famosa capsicina del piccante Rende più assorbibile l'energia solare E quindi è un maggiore conduttore E poi abbiamo anche inserito per esempio la magna carta del peperoncino Cioè Arturo Reincrica Che è il famoso campione italiano di mangiatore del peperoncino Che fanno la gara Ha infatti una magna carta Cioè la carta del peperoncino Quindi ha cercato di abbinare ad alcuni alimenti Un tipo di peperoncino Di specie di peperoncino ne abbiamo più di 3.000 Devete considerare che fino a dieci anni fa L'Accademia ne aveva catalogato solo 300 Questo è lo stemma della delegazione romana Vedete che c'è la famosa maschera romana Col simbolo del peperoncino Ipsedixit E invece il peperoncino ha una varietà enorme di specie E la presenza degli immigrati negli ultimi 10 anni Soprattutto quelli che vengono dall'Oriente o da Sud America Si portano come facevano i calabresi quando andavano negli Stati Uniti I peperoncino, i semi di peperoncino Perché si riproduce velocemente Ecco perché ha anche grande successo Ha avuto grande successo nella storia Perché è una pianta che ha bisogno solamente di acqua e sole Nient'altro Ed è molto generosa Non è che ci sono le persone che soffrono di varie matti Eccetera eccetera Colite, gastrite e così via Può far male in quei casi O comunque sia un consumo ridotto Non è... Allora diciamo che la stragrande maggioranza dei consumatori Sempre I peperoncino non hanno particolari problemi Chi ha problemi in effetti collegati alle gastrite O alla malattia collegata alle gastrite Sicuramente un utilizzo ponderato fa bene Ma tendenzialmente fa benissimo Fa benissimo perché ha diverse... Che fa bene alla salute Fa bene alla salute perché a differenza delle altre Tra virgolette droghe Se vogliamo creare la propria dipendenza Il peperoncino crea una dipendenza Cioè i mangiatori di peperoncino come sono io Non ne possono fare a meno E' un mangiatore seriale E' un mangiatore seriale Non solo ma sono anche uno spacciatore seriale Perché io distribuisco ai miei amici Le varie diciamo preparazioni di peperoncino Perché poi il peperoncino c'è fresco E tutte le varie specie Poi c'è quello pestato, quello sott'olio Poi c'è l'anduia, poi c'è la sardella sott'olio Insomma c'è tutta una quantità Nelle cose si può macinare Esattamente Diciamo che è qualcosa che crea anche fantasia Ma è anche simpatico Cioè il peperoncino, i colori, il rosso Crea anche una forma erotica, sexy E anche un po' un segno di virività Insomma quindi il peperoncino ha diversi vantaggi Ma è anche vero che è un vaso dilattatore Quindi quando c'è questo abbinamento Del viagra al peperoncino Il viagra del povero Il viagra del viagra Prima del viagra In effetti è vero Perché in effetti ha degli effetti Vaso dilattatori Qui per esempio c'è un bellissimo intervento Di Ferrarotti Il famoso sociologo Antropologo Che fa un bellissimo pezzo Dove sostanzialmente racconta Una storia Collegandosi anche alla letteratura Di come il peperoncino Avrebbe addirittura salvato una persona Che ha fatto cilecca Di fronte a una Diciamo a una serata amorosa E quindi si è suicidato Certo se avesse mangiato il peperoncino Forse non avrebbe fatto cilecca Voglio citare un episodio Che ho vissuto Noi andiamo Tante volte Come altre persone Andiamo ad Ischia Uscendo dal porto Sua destra Quando si va verso il mare C'è verso Casamiccio Ci sono a un certo punto Delle due o tre negozi Che vendono ortofrutta Quindi eccetera Hanno tutta la parete fuori Piena Zeppa di peperoncini Con al centro Una scritta Viagra naturale Sì sì È vero Inoltre il peperoncino E' anche contro il malocchio Quindi combatte il malocchio Non a caso viene appeso spesso Fuori dalla porta E' il corno Perché ricorda Tipo corno napoletano Esattamente Che rosso Quindi sul peperoncino Si costruiscono tante storie Ma nonostante questo E' ancora oggi Qualcosa che viene visto come Un po' Quasi pauroso No? Per chi non Oddio il peperoncino Io non mangio il peperoncino Oppure Invece no E' qualcosa invece Da ricercare Da amare Abbiamo citato prima La NASA Cioè abbiamo anche La necessità di consumarlo Quotidianamente Perché non solo E' buono Ed è anche simpatico Ma fa bene alla salute E di conseguenza Sarebbe un alimento Che consentirebbe a tanti Di poter assorbire Quella quantità di vitamina C Che noi abbiamo bisogno Ogni giorno Aggiungo Che il peperoncino Prodotto in Italia E' pochissimo Noi pensiamo Che l'Italia Sia un grandissimo Produttore di peperoncino Non lo è Il 60-70% Del peperoncino Consumato In Italia Dovete considerare Che il peperoncino Si trova in moltissimi alimenti Pensiamo alla cioccolata Tanti altri prodotti E' importato Soprattutto dall'estremo oriente Quindi il migliore peperoncino È quello Nostrano Accennavo prima Che ci sono produzioni Importanti in Calabria In Abruzzo In Puglia In Basilicata Detto questo Io racconto nel mio capitolo Una storia del peperoncino Di casa mia Di casa Spanò Perché nelle nostre famiglie Che sono numerosissime In Calabria Nel Meridione C'è proprio una cultura Del peperoncino C'è proprio come L'allevamento del maiale No? O l'allevamento delle galline C'è il peperoncino Come l'orto E' un elemento fondamentale Non solo perché viene consumato Quindi crea piacere Ma è un elemento fondamentale Per la conservazione Della carne di maiale Lo sapete Calabria appunto Ha una fortissima produzione Di carne di maiale Conservata col peperoncino Quindi l'abbinamento Di avere un ottimo maiale Da crescere E un'ottima piantagione Di peperoncino E' importante Perché se le due cose Vanno di pari passo E io racconto questa storia E anche questo fatto Che da bambino Quando arrivava il momento Di macinare Il peperoncino Che diventa pepe pestato O macinato Dopo che questo peperoncino E' stato per diverse settimane Esposto a sole Perché si deve assorbire Deve far sì Che tutta l'umidità Venga fuori Altrimenti poi Si potrebbe creare La muffa L'acidità chiaramente C'era poi questo rito Di arrivare Alla macinatura E di conseguenza La cucina Diventava un luogo Come una camera gas Dove si sprigionava Questa polvere Il peperoncino E poi si iniziava Tutti a casa A strannotire Perché chiaramente Poi C'è anche qualcosa Di molto romantico Qui ci sono alcuni Piatti che vengono Elencati Abbiamo detto Che ci sono circa Un centinaio di ricette Tutte collegate O alla grande tradizione Del peperoncino calabrese Ma anche piatti nazionali Perché ci sono Alcune regioni Come la Toscana Come anche il Piemonte Eccetera Che hanno prodotti Collegati esattamente Prodotti culinari Piatti tipici Dove il peperoncino È fondamentale Quindi non hanno La grande tradizione Dell'intera regione Come la Calabria Ma hanno dei piatti Dove il peperoncino È fondamentale Pensiamo alla zuppa di pesce Per esempio Senta La vuole leggere lei La poesia di Aldo Fabrizi? Ma non sono bravissimo A leggere però Nemmeno io Però lei sicuramente Che pagina è? 113 Quando nel sangue Allora Allora Questa diciamo Questa è una poesia Scritta da Aldo Fabrizi 16 milioni di ragioni Per amare il peperoncino Flavio De Caro E poi la poesia È stata scritta Da Aldo Fabrizi Leggiamo almeno qualche frase Quanto per non fare brutta figura Quando nel sangue Circola sto fuoco Si sente Un frisciore Dappertutto Un friscicore Un friscicore Perché la qualità Che c'è sto frutto Infiamma Da salute E dico poco Quindi parla sempre Del peperoncino Assolutamente Ribadiamolo ai nostri Spettatori Continua a dire Parla della vitamina C Perché poi ci fu anche Un premio Nobel Che vinse Ungherese Grazie allo studio La capsicina L'Ungheria Produce tantissimo Il peperoncino La papica famosa Fu poi Grazie a questo Centrato Ungherese Che fu scoperta L'importanza La papica in realtà È il peperoncino Il peperoncino Sì Solo che là ce l'hanno Sia dolce che piccante Invece noi Solo no Ce l'abbiamo anche dolce Come il peperoncino Sinistra Però diciamo La tradizione È quella del piccante Perché piccantezza È quell'elemento Che distingue Diciamo Il peperoncino Dagli altri ortaggi Quindi abbiamo visto Anche la storia Perché non era un frutto Italiano Diciamo No O europeo Ma è un frutto Che è stato importato Dall'America Assolutamente Si scopre nel 1500 Quando i romani Parlano di pepe Parlano del pepe nero Non parlano del peperoncino Quindi noi in Europa Ce l'abbiamo Dal 1500 in poi Ed in Calabria Serve molto Per fare Questa conservazione Quindi un po' tipo Fondamentale Come il sale Nel senso L'assenza del peperoncino Negherebbe Centinaia di pietanze E di conservazione Dei prodotti Prodotti che Hanno ormai assunto Non più Una Diciamo Curiosità Per gastronomi E sono diventati Elementi Di diffusione Di massa Tant'è che Sostanzialmente Dovete considerare Che la Burger Che è la famosa Concorrenza Da McDonald's Ha ordinato Dicine Dicine tonnellate Di duia Per poter vendere In tutto il mondo Un ulteriore panino All'italiana Perché appunto Quest'elemento Della piccantezza Sta ormai Non superando I confini Viva Dio Aggiungo Della Calabria Ma sta diventando Un elemento distintivo Del made in Italy In italiano Oggi noi possiamo Tranquillamente Affermare Che il peperoncino E i prodotti Di peperoncino Fanno parte A pieno titolo Del made in Italy Italiano Moltissimi Chef Stellati Utilizano il peperoncino Per i propri piatti Qui per esempio C'è una bellissima foto Di Hans Beck Che ha utilizzato Un piatto La pergola Con l'anduia Quindi viene considerato Come qualcosa Del made in Italy Veramente forte Non c'è ancora Piena coscienza Non c'è piena padronanza Ecco perché il libro Perché si possa diffondere Non c'è più questa cosa Volevo dire una cosa Quindi rispetto al passato Quando lei parlava Di un piatto povero Diciamo Dove c'era il peperoncino Quasi per dare maggiormente vigore Maggiormente forza A dei piatti Che magari erano Composti da legumi O da insalate E così via Quindi non c'era certamente Torture Quindi oggi Questa tradizione Che prima era una tradizione Quasi per necessità Oggi è diventata invece Un uso Un uso quotidiano Quotidiano Ma non soltanto Nelle classi povere Ma anche a livello importante A livello importante A vario livello Tant'è che I ristoranti E i negozi Che vendono il peperoncino Nelle varie Diciamo Differenze Sono numerosissimi E soprattutto C'è una tradizione Che è quella Della cucina italiana Dove la cucina calabrese E di conseguenza Quella medionale Sta diventando Predominante Come noi andiamo a Londra A New York Che troviamo molti ristoranti Della cucina napoletana O toscana Adesso sono molto presenti Quelli calabresi O se non sono Ristoranti calabresi Comunque inseriscono Il peperoncino C'è sempre Un peperoncino Comunque Che crea bellezza Che crea curiosità Dentro il ristorante Si laureano Gli studenti E vengono regalati Alle studentesse I fiori Dove dentro Venne messi Il peperoncino Perché appunto È anche qualcosa Un po' di Io dirò una cosa Che forse non sai In Francia Dove io ogni tanto Vado Sono stato Eccetera Quando un ordino Una pizza Portano accanto Alla pizza Portano il peperoncino Tritato Perché loro amano Mettere questo peperoncino Sopra la pizza I francesi Quindi vedete Le do altre notizie Che forse E quindi È molto usato Diciamo anche all'estero Molto usato E si si Più di quanto immaginiamo Ma ormai È una realtà Non se ne può fare a meno Tant'è che Negli anni settanta Alcuni meridionalisti Definivano Un po' i calabresi Come un popolo Di peperoncini E di produttori di peperoncino Di consumatori di peperoncino Come dire Vi potete occupare Solo di questo Adesso Dire che la calabria È la regina Delle regioni Dove si produce Il peperoncino E si consuma È diventata Un'identità nazionale Anche Gli osservatori Internazionali Osservano E danno Un elemento Di qualità Del peperoncino Collegato alla calabria O alla cucina italiana Perché ormai fa parte Superando anche Quell'atteggiamento Molto forte Dei paesi orientali Immaginiamo Tailandia India Cina Dove il peperoncino È consumato In modo enorme O il Messico Che sempre rappresenta Lo Stato Al mondo Con la maggiore tradizione E in maggiore consumo L'Italia però Si è imposta Per la sua eleganza Per la sua bellezza Per distinguersi Nel fare qualcosa Che è sempre equilibrato Che rientra Poi nel parrimogno Possiamo dire Del gusto Tipicamente italiano Quindi noi italiani In questo caso Grazie ai calabresi Siamo riusciti A imporre Una qualità di cucina Che era prima Lasciata da alcuni paesi Ma lasciata da alcuni paesi Molto forti Perché lì viene il grande consumo E la grande quantità di peperoncino Noi italiani In questo ci siamo distinti Come una specie di rinascimento Che ha fatto sì Che questo nostro prodotto Fosse collegato a qualcosa Di veramente Ed estremamente buono E questo ci deve rendere Orgogliosi Di poter avere Come tantissimi altri prodotti Come il parmigiano Il Non sto qui a fare l'elenco Dei prodotti L'olio Il peperoncino L'olio Il vino Il peperoncino È entrato a pieno diritto Quindi oggi Considerarlo qualcosa Di poco importante Significa che tu Sei fuori dal mondo Perché è veramente Molto importante E a questo si aggiunge Che nella sua storia Il peperoncino Ha avuto anche Questa qualità di quadri Questa qualità di pittura Soltanto un minuto Perché ho sentito La necessità Di fare queste strutture Queste accademie nazionali Nominari abbasciatori Delegazioni Eccetera Perché quando ci furono I festeggiamenti Perché per il peperoncino E non per le melanzane Nasce per una scommessa Perché 30 anni fa Quando ci furono le colimpiadi Che vennero Celebrate a Genova L'attuale presidente Dell'accademia del peperoncino Enzo Monaco Scrisse una lettera All'organizzatore Dicendo Mi permetto di ricordarvi Che il peperoncino Faceva parte dei prodotti Portati da Cristoforo Colombo I genovesi Non rispossero Perché considerano Questa cosa quasi Offensiva Noi calabresi Gente tosta Abbiamo organizzato Un festival Abbiamo organizzato Un'accademia E da allora Esploso questo fenomeno Quindi è nato Come una sfida Ma Come al solito È partita Più per una Offesa E noi abbiamo lanciato Il guanto E l'abbiamo vinto Abbiamo parlato Del libro Very Important Peperoncino Crea dipendenza Che fa bene Alla salute Ospite del nostro studio E quindi nel vostro salotto Il dottor Francesco Maria Spanò Che insieme a Termini A Gelini A Gelini Tricarico E Massimo Lopez Ha scritto Questo libro Storia Miti Leggende Utilizzo del peperoncino Anche qualche Prosa Qualche verso Scritto da Aldo Fabrizi Abbiamo visto Abbiamo visto anche La cucinotta Che c'è Questo perdito Che è stata Una trasmissione Fatta apposta Per illustrare Ancora meglio L'utilizzo Di questo peperoncino Anche Attraverso il libro Scritto dal Dottor Spanò Che io ringrazio Grazie a voi Ricordo che l'editore È Gangemi Che è appunto E quindi mi ha detto E poi Pirro Pure mi sembra E Pirro E appunto Il pastificio Pirro Che ha voluto E ha finanziato Quest'opera Che è stato il primo A investire Nel peperoncino E uno sponsor Insieme alla famosa Pasta e i prodotti Abbiamo citato a tutti Abbiamo la storia Di un imprenditore calabrese Che ha fatto successo Come tanti prodotti calabresi Che ha raccontato La storia Molto interessante Allora naturalmente Anche grazie a voi Per averci ospitato Il posto da Lotto Per essere stati con noi E continuiamo Con le trasmissioni Di Rete Oro Arrivederci Grazie Grazie